Il lavoro resta il tema dei temi nel quale va ad inserirsi la questione femminile. Sono ancora tante e troppe le donne in Italia, ancora di più nel Molise, discriminate e penalizzate da una società che pensa ancora troppo al maschile. E in vista del primo maggio, giornata dedicata al lavoro, le donne democratiche hanno organizzato a Campobasso un incontro per affrontare il tema e illustrare i contenuti del bando sull'imprenditoria femminile e le politiche per favorire le condizioni di lavoro delle donne del Molise. Presente tra gli altri l'onorevole Cecilia Delia, portavoce della conferenza nazionale Donne Dem. La situazione in Italia non è buona, non lo era prima della pandemia, siamo il paese con il tasso di occupazione femminile più basso in Europa e purtroppo la pandemia ha colpito quei settori, in particolare occupazione femminile, ristorazione, turismo, quindi è stata una crisi economica a seguito di quella sanitaria molto feroce sul lavoro femminile, che è un lavoro tra l'altro molto precario e spesso è fatto di tanti part-time involontari. Abbiamo molto insistito perché nel piano nazionale di ripresa e resilienza ci fosse l'obiettivo della parità di genere, come un obiettivo trasversale a tutte le missioni, e l'aumento dell'occupazione femminile. C'è un bando sull'imprenditorialità femminile, di che si tratta? Noi abbiamo voluto, dico quando dico noi perché nasce da una proposta del Partito Democratico e i primi soldi messi in bilancio lo scorso anno erano 20 milioni, a cui si sono aggiunti i soldi del piano nazionale, siamo a circa 200 milioni, si tratta di sostegno alle imprese femminili. Quali sono le opportunità per il Molise per quanto riguarda questo bando? Abbiamo 400 milioni che a livello nazionale sono disponibili per tutte le regioni, molti vengono dal cosiddetto PNRR ma c'è anche un pezzo del bilancio nazionale. È molto semplice poter accedere, basta dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico scaricare il bando, dal 5 si presentano le domande, si va fino all'80% delle risorse che ci mette lo Stato, le nuove attività o le attività esistenti che vogliono aumentare quello che fanno. Però una caratteristica che siano di donne o partite IVA di donne o cooperative a maggioranza femminile o con le caratteristiche con una presenza femminile forte. È un'incredibile occasione perché il vantaggio è notevole praticamente su tutti i settori, compreso la trasformazione agroalimentare, quindi noi invitiamo a consultare e a essere attori, attrici della nostra possibilità di riscatto e di lavoro in una regione dove purtroppo il lavoro ce n'è poco, in particolare quello femminile e quello giovanile. Ci siamo voluti impegnare per dare un segnale concreto verso il primo maggio.